Per la dedizione e il servizio per l'umanità svolto negli ultimi dieci anni, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha reso omaggio al segretario generale Ban Ki-moon. È stato il grande privilegio di una vita ricoprire l'incarico, ha detto Ban Ki-moon, che si prepara a lasciare. Tutti noi possiamo e dobbiamo contribuire a costruire la fiducia così dolorosamente necessaria in Medio Oriente nel mondo di oggi. Questo lavoro deve iniziare ora prima e che sia troppo tardi. Ban Ki-moon ha lasciato il suo segno. Ora il timone passa a Antonio Guterres, che assumerà le sue funzioni il 1 gennaio 2017, che ha giurato il 12 dicembre, esprimendo la sua stima per Ban Ki-moon.